eccoci qua ragazzi siamo Tyler Strikes e Pingu16 mi ha incastrato no 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 vabbè dai ci sto me la commento volentieri che stiamo scazzando abbiamo un salty sweet in questo video allora personalmente non conosco assolutamente Gaz ma ho sentito dire che detesta ucciderebbe più facilmente un Mainer di Baionetta piuttosto che uno che cerca di uccidere sua madre mamma mia mamma mia il Paragoni di Pingu la conice stupenda di questo Icarus 2 fenomenale e oggi avremo in questo video veramente un match molto caldo molto salato il Moro prima ha utilizzato Baionetta per sconfiggere Carminuccio con qualche difficoltà però contro lo Ryu di Carminuccio vi consiglio di vedervi il match non avete già fatto è veramente bello veramente bello lo stavamo guardando tanto urli tanto hype trovano i tasti in questo momento? allora Gaz comunque io ho avuto modo di vederlo giocare comunque dato che stavo organizzando appunto la sua pool intanto di dove è? allora è il quarto milanese ok ok comunque scena di Milano sì sì il quarto milanese comunque la scena di Milano è piena di player veramente formidabili appunto comunque stiamo parlando di loci enigma no aspetta blue link enigma loci poi Gaz quindi stiamo parlando comunque di ottimi giocatori e si inizia qui abbiamo Baionetta su Final Destination contro Pit non Dark Pit eh no usa Pit e Dark Pit li usa entrambi ok e aveva scelto Pit per delle leggere piccolezze che sinceramente non conoscendo il personaggio non posso descrivere l'immagine nemmeno allora no posso dire la differenza allora sta innanzitutto nel 6D che è più potente quello di Dark Pit e soprattutto il motivo per cui si può preferire Pit rispetto a Dark Pit sono appunto le frecce che sono mobili per quanto riguarda Pit mentre Dark Pit le lancia in una direzione e in quella vanno quindi penso che abbia scelto Pit per spammare meglio perché punto debole di Baionetta è lo spam però in questo momento non è ancora fatto uso qui sgrabba il witch time penso che comunque uno dei punti forti di Pit nei confronti di Baionetta innanzitutto è il fatto che Gazzia è almeno Pit e in secondo luogo il fatto che comunque Pit se la può giocare di prese cioè ha ottimi follow up dalle prese può giocare bene di Aerial magari ecco anche i multi hit possono dare molto fastidio a Baionetta per quanto riguarda witch time quindi comunque Pit ha i suoi mezzi per cercare di cantare il Baionetta infatti in questo caso è in vantaggio anche con questo grazie a questo B-side 90 a 30 un buon approccio iniziale da parte di Gazzia che c'è la morte con Baionetta lo sta dimostrando in questo momento prende le distanze Baionetta teme un po' ad approcciare in questo pit comunque con un inizio esclusivo si prende anche questo dash e il moro scuda benissimo il b-side bravo sta disputando ottima difesa da parte di Gazzia che si fa coprire veramente raramente 40-120 la uptrung lo porta a 130 percentuale già da upkill per Baionetta qui poteva essere punito veramente amaramente comunque la particolarità che stavo notando guardando i match è che Gazzia usa Pit Bianco e Dark Pit no Dark Pit Bianco e più nero per far ridere questo gioco di Yin Yang sui suoi due angeli Yin e Yang Yin e Yang comunque 73-147 la left throw dovrebbe chillare a questo punto la combo non va più comunque come abbiamo già visto perché Baionetta Rage Effect massimo con 80% di danni a Pit non entra più non rientra più U ha provato ha provato la grab sul bordo però non ha connesso torna su rischia di fare di uno stage spike invece no attenzione benissimo a Pivot vediamo eccolo qua ci lascia le penne Baionetta è in tutti senso troppo alta la percentuale poi tra l'altro è sicuramente una delle kill move su cui dovrà fare più affidamento Gazzia considerato che comunque giocherà molto di prese e che Baionetta è abbastanza leggera se dovesse farla nella posizione giusta dello stage potrebbe anche uccidere non dico a due cifre ma all'inizio delle tre cifre sì esattamente in più ricordiamo che in questo momento Pitta Rage Effect massimo nonostante non riesca a tornare in campo così topo safe invece riesce a collettere un down air ha un S air un altro down air 20 danni gli ha raccolti sta raccogliendo i più danni possibili perché gli serviranno per l'ultimo stock per portarsi a casa questo primo match nella pool j vediamo molto usa molto lo scudo Pitta usa molto lo scudo ovviamente il problema di Baionetta è che è arrivato a questo punto la kill move più buona cioè migliore che ha è questa appunto è back air è arrivata finalmente e quindi ha preso sulla presa a vuoto di Pitta un'altra kill move poteva essere appunto left throw che killa però killa ad altissime vegetali devi stare al bordo quindi è molto possibile partito con un 40% di vantaggio Gazel però se lo vede mangiato quasi tutto ormai soltanto 10 di vantaggio 40-53 vediamo poi il torno in stage bello molto bello lo colpisce duramente poi una presa con qualche jab bellissima la pivot di Baionetta che quasi non si è preoccupata dell'avversario che gli stava di fronte 93 però Baionetta rischia veramente tanto la F throw forse poteva risparmiarsi da tenersela per dopo vediamo prova il down smash ma Baionetta vola via prova anche il witch time un'altra presa che però non volete niente peccato eh no penso non volesse non volesse scaricare le F throw perché le F throw poteva fare da qualche altra direzione magari perfetto e grab Elise vediamo la presa in su stavolta 130 sta veramente giocando bene Gazel senza problemi devo dire però adesso ancora un'alta presa fa troppi jab non so se lo fa volontariamente penso che sia un modo per saccare danni down here che va verso l'alto non basta per tirare Baionetta la prossima presa secondo me è stata decisiva però a dire perché in buono parte fa la so che non chilla ancora stranamente non chilla ancora mi sarei aspettato mamma mia 100 3 100 percentuali però sono eccolo qua down smash pubblico esulta ottimo Gazel si gira verso i suoi compagni che approvano la sua vittoria veramente veramente partita di pazienza da parte di Gazel sta giochendo molto bene sono quasi due delle partite contro Maionetta bene possiamo tornare quindi al match siamo 1 a 0 tra il Moro e il Gazel vediamo il counterpick ricordiamo il Moro non è credo che ce ne siano altri due l'unico giocatore delle marche però uno dei pochi appunti rappresentanti marchigiani del si mi ricordo Zuzzo e basta oltre lui sinceramente penso siano solo Zuzzo e il Moro però non vorrei sbagliarmi scusa eventuale terzo o addirittura eventuale quarto marchigiano eccoci qua con il secondo match nel caso vincesse Gazel ci potrebbe il set ovviamente in questa Pool J vediamo il solito approccio molto safe di entrambi cercano giusto lo schermo intero scusate voi non notate la differenza ma in sala si bella la presa di il Moro che attenzione veramente è qui poteva con il il 99 un inizio strepitoso di il Moro ancora 105 a 13 un effe mamma mia 109 a 13 inizio veramente devastante di il Moro in poco più di 30 secondi qua l'up smash inizia a fare qualche danno inizia a portarsi a casa qualche danno anche se non basta il 30% per imperserire Bayonetta che per adesso sta facendo più o meno quello che vuole con questa downfield a pair poi vanno a seguirli con gli special non trova niente però andiamo torna safe pit con un semplice stand up on stage poi la serie di jab copisce con l'ultimo hit Bayonetta lo porta su con il side b verso il basso classico un messaggio su cui molte Bayonetta fanno molto diciamo affidamento è la rollata indietro dell'avversario molto spesso l'ingaggio parte proprio dal side b verso il basso a destra o a sinistra dalla rollata indietro con un buon rid come si viene rotolata qui prima ultimo hit oh eccolo qua il e il nuovo ci porta casi al primo stock senza troppa difficoltà 60 danni e uno stock vediamo come approccerà adesso gazzel con un dash attack e fare qualche danno in più prima che Bayonetta si lo porti in giro con le combo fsmash annullato dal side b di Bayonetta nonostante fosse in una direzione opposta addirittura dash attack un altro back air inizia a portarsi a casa anche i danni Bayonetta 50 attenzione 60 faticca stavolta cazzo però viene un back air tag spike io mi aspettavo addirittura il down air invece ha preferito il back air che ha connesso ma non ha portato troppo se non qualche danno in più 73 73 pari ma la stock di vantaggio ci dà il moro che è un Bayonetta in questo momento comunque è in difficoltà è da tenere d'occhio anche il down air di il moro perché il down air di Bayonetta è bello tost bello tost tra l'altro è comunque dicevo appunto il down air oltre oltre ad essere un buon una buona kill move è anche una mossa che non cioè ti manda in basso ma non ti uccide perché riesci a rimuoverti subito dopo aver toccato cioè dobbiamo subito dopo averlo fatta poi scendere risalire con a B salto a B vediamo Danu cociare Gazelle mentre il coccino di Luseige si fortissimo e il moro cerca coci ma non viene mai aiutato mentre Danu ha dato i suoi consigli a Gazelle che comunque lo vediamo abbastanza provato molto deciso forse intimorito dopo questo brutto match vediamo e il moro se la ride tranquillo e il moro tranquillissimo nonostante questo match decida il set però ha giocato molto bene con sicurezza meglio sicuramente continuano a giocare su questa riga può portarsi a casa il set contro veramente un ottimo player e sarebbe veramente un game importante bene possiamo passare direi alla eccola qua alla schermata il moro Gazelle e il match dobbiamo sistemare il risultato siamo geniali eccolo qua oh fai 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 1 update tasto destro full screen preview mode ed eccoci qua su z2.1 via siamo pronti a vedere questo ultimo game di questo set decidi di rimanere su pit su final destination secondo me è anche giusto cioè comunque alla fine tra pit e dark pit non cambia molto appunto dicevo la forza di dark pit è appunto nel side b considerate questa cosa il side b è una mossa molto leggibile molto intercettabile da witch time quindi penso che avere la possibilità di muovere le frecce sia molto meglio che appunto il side b che può essere certo che connettere un side b a percentuali anche più basse contro una leggera vaionetta sarebbe utile però se se la sente di più di giocare di frecce ben venga infatti vediamo l'utilizzo è sempre il pericolo witch time secondo me penso che sia quella la cosa intanto qui rischia di nuovo il game si io fossi nel moro proverai il down air su recupero verticale molto di infatti da questo qui praticamente si è buttato sul secondo 97 e 76 è un inizio veramente violento da parte dei due tra l'altro da notare che vanno sempre suonca si quindi da un smash e poi due frecce di dark pit questa è la forza del poter direzionare le frecce dai veramente tanto sostitio all'avversario a prescindere da chi sia poi ho caricato uno smash ma sono beccato il b size molto rischioso qui ecco la F tro che non basta però ancora a chillare e il moro scusate gazelle vediamo il moro spinto fuori dallo stage da questo a pair gazelle prova oh back air è successo qualcosa di molto strano di solito succede capitan falcon esatto la troppa velocità 2 fast for the stage cadono entrambi però alla meglio bayonetta in questo caso 100 a 27 inizia a fare i danni di vantaggio bayonetta nella propria dello stock in più un down smash oh adesso gazelle ha molta fretta di togliere il primo stock a bayonetta forse ne ha troppa vediamo la lenta un po' un altro ancora troppi pammel a questo punto mi domando se si effettivamente smascia bene secondo me io sento smasciare bene il moro può essere che sia che gazelle non si aspetta tutto il mash quindi qualche danno in più va sempre tom ecco qua attenzione se la prende se la prende mamma mia gazelle amareggiatissimo detto dalla folla bagniamola mamma mia mirchino dietro che dice che schifo che schifo hashtag ufficiale di bayonetta e il moro si porta a casa anche questo set sorridendo sospira giustamente perché oramai penso si è preso di mira da tutto all'unità cyberbullismo si si pratica si becca i complimenti del suo collega maionetta main e ribaia e niente da pingu16 e da tyler che ci siamo scambiati i nomi va bene da pingu16 e da tyler strikes è tutto vi do appuntamento al prossimo video di liga rus 2 ciao ragazzi